Giovedì 6 novembre, buongiorno, siamo al primo appuntamento con l'informazione di Telemolise in regia Marco Presutti. Il Consiglio regionale ha ratificato la revoca da parte della Giunta delle autorizzazioni per le centrali a biomasse di Campochiaro e San Polo. Una revoca per la quale la Civitas ha chiesto un risarcimento milionario. I dettagli nel servizio di Anna Maria Di Matteo. La nuova valutazione dell'interesse pubblico originario di fatto crea l'incompatibilità delle centrali a biomasse di Campochiaro e San Polo con la vocazione dell'intera area del Matese. Questa è la motivazione che la Giunta regionale ha posto alla base della revoca delle autorizzazioni dei due impianti richiedendo ed ottenendo anche il sostegno del Consiglio regionale che ha approvato a maggioranza la delibera approdata di fretta e furia in aula. Una revoca che tuttavia costerà cara alla regione, molto cara. La Civitas, la società che avrebbe dovuto realizzare l'impianto di Campochiaro, chiederà infatti il risarcimento. Secondo i legali della società, gli avvocati Umberto Colalillo e Massimo Dinezza, la cifra si aggirerebbe tra i 5 e i 6 milioni di euro, ma non è escluso che l'importo possa lievitare ulteriormente. L'orientamento fanno sapere i legali e comunque quello di presentare ricorso. Il rischio di risarcimento milionario a carico della regione era stato ventilato in Consiglio regionale dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Federico e Manzo, che tra l'altro hanno votato contro la delibera approdata in aula. Tutta la questione sulle biomasse, hanno dichiarato, è stata gestita in maniera pessima sin dall'inizio. Autorizzazioni rilasciate in barba al deliberato consigliare sui piani di zonizzazione, intrecci societari e l'oggettiva difficoltà dell'esecutivo regionale a gestire questa situazione. Il risultato, hanno proseguito i 5 Stelle, è stata l'esposizione della regione ad un duplice danno, ambientale, nel caso fossero realizzate le centrali, e di carattere patrimoniale, costituito dall'indenizzo che la regione dovrà versare con la Civitas che ha già avanzato pretese per 8 milioni di euro, soldi pubblici. Il Movimento 5 Stelle aveva invece proposto un annullamento in autotutela o in seconda istanza la revoca. Due giorni prima della sentenza del Tar sul ricorso presentato dei cittadini dell'area, hanno ricordato i due consiglieri, Frattura ha di fatto sottratto la materia del contenzioso ai giudici di Campobasso, probabilmente garantendo l'indennizzo al marito del suo segretario di gabinetto, in qualità di amministratore della Civitas. Hanno concluso Federico e Manso. L'assessore regionale Nagni e il parlamentare del PD Leva hanno avuto un incontro a Roma con Mauro Grassi, direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Per quanto riguarda i fondi della delibera Cipe, ha spiegato Nagni, si è ottenuto il via libera per usare i 10 milioni di euro già stanziati. In questo modo saranno cantierabili 26 interventi su 27. L'unico dubbio, aggiunto, rimane il comune di Venafro perché non è stato presentato il progetto. L'iter va concluso entro il 31 dicembre. Per quanto riguarda i 15 milioni per la sicurezza del fiume Biferno, fondi già revocati, ha continuato l'assessore, la struttura di missione analizzerà la relazione e valuterà la proposta fatta. Danilo Leva, in generale, si è detto soddisfatto per un'apertura dimostrata che ha permesso di raggiungere obiettivi fondamentali per il territorio. Nuova frontiera per il recupero e la conservazione delle opere d'arte. è il Biorestauro, tecnica nata all'Università del Molise e di cui si è discusso nell'incontro organizzato dalla Società Italiana per la protezione dei beni culturali del Molise. Ce ne parla in questo servizio Marcella Tamburello. Restaurare le opere d'arte significa recuperare il nostro passato. Nel tempo le varie tecniche dei restauratori si sono affinate e spesso sono cambiate. Altre ne sono state create. Come nel caso del Biorestauro, una nuova frontiera per il recupero e la conservazione dei beni culturali. Proprio di questo si è discusso nell'incontro organizzato dalla Società Italiana per la protezione dei beni culturali del Molise, priseduta da Isabella Storri e che si è tenuto nella sala consigliare del Comune di Campobasso. Il Biorestauro è un argomento di grande fascino perché è il restauro su opere d'arte, non solo affreschi ma anche sulle statue, che si fa con i batteri. Ed è molto importante perché naturalmente non sono tossici questi elementi, che non lasciano residui e hanno dei risultati ottimi. Noi abbiamo la fortuna di avere il professor Ranalli, che è un pioniere di questa materia. Infatti partecipa anche a un progetto europeo con dei partner da tutta Europa, c'è l'Inghilterra, la Francia e non so chi altro, e ci mostrerà gli ultimi successi di questa nuova tecnica a cui egli proprio partecipe. Il tema del biorestauro e della biopolitura delle opere d'arte è stato affrontato dal professor Giancarlo Ranalli, ordinario di microbiologia agraria ed ambientale all'Università del Molise. Parliamo di un caso unico, di un impiego per la prima volta di batteri opportunamente selezionati su affreschi del 400 presso il Campo Santo Monumentale di Pisa. Si tratta di un complesso molto importante, proprio nella Piazza dei Miracoli, più di 1500 metri quadri di affreschi che hanno subito gravi danni durante la Seconda Guerra Mondiale e che con l'intervento, ripeto, per la prima volta di batteri opportunamente selezionati nei nostri laboratori, si è potuto risolvere alcune problematiche che tornano ad essere visibili e fruibili a tutti noi. Quindi dall'Università del Molise, dal nostro Molise, partono nuove frontiere di ricerca, in questo caso per restaurare il nostro passato. Esatto, proprio all'interno del Teneo Molisano, da anni, forniamo batteri vivi, vitali, pronti a degradare colli animali e altre sostanze indesiderate, proprio che vengono distribuiti sulla fresco e nell'arco di una notte completano il lavoro. E sono, potremmo dire, un esercito opportunamente, adeguatamente motivati e che mirano e lavorano accanto a noi. Sabato 15 novembre, dalle 18 a mezzanotte a Campobasso, è stata programmata la manifestazione Vivi la tua città nel centro storico. Cultura, divertimento ed enogastronomia al centro dell'evento, ha detto l'assessore comunale al commercio Salvatore Colagiovanni, organizzato sull'onda del successo dell'iniziativa dello scorso 27 settembre. L'obiettivo, aggiunto, è valorizzare il centro storico cittadino, dare l'infa vitale al commercio della zona e promuovere il turismo. Il direttore artistico della manifestazione è Max Manocchio. Con questa notizia ci fermiamo, adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it. In evidenza, centrali a biomasse, autorizzazioni revocate. Civitas pronta a richiedere un risarcimento record. L'articolo è a firma di Anna Maria Di Matteo. La cronaca, morte sospetta ad Acquaviva di Sernia. Il procuratore capo Paolo Albano vuole vederci chiaro. Avvenafro, evasione fiscale da 4 milioni di euro, 4 persone denunciate dalla Guardia di Finanza. ITR, fumata nera, nessuna sostituzione per Rosati. Torniamo sulla cronaca, dai Sernia, spaccio di droga alla villa comunale. Studente arrestato dai carabinieri. Civitanova del Sannio, cane, finisce in un dilupo salvato dal soccorso alpino. Torna musica a corte, tarantule, antidoti e follie sabato alla Ex-Gil di Campobasso. Incidente sul lavoro alla Fiat di Termoli. La FIOM proclama uno sciopero. Si parla anche di dissesto idrogeologico. Esito positivo dopo l'incontro a Roma. Disponibili 10 milioni di euro per il Molise. L'avete sentito anche nel nostro notiziario. Vivi la tua città con la Giovanni Annuncia, il BIS, Centro Storico, teatro dell'evento. Notizia di cronaca legata alla politica. Minacce di morte dal Presidente Frattura. Ridacci un lavoro, ti facciamo a pezzi. E poi ci sono i dati dell'Istat sugli incidenti stradali. Infine un cantiere aperto presentato alla Galleria Civica di Termoli. Il libro di Monsignor Valentinetti. Ci sono le consuete rubriche editoriali. Notizie della Regione, dall'Italia e dall'estero. Andiamo su primo piano. Molise che dedica l'apertura alle centrali a biomasse. Archiviate dunque le centrali a biomasse, in Regione si apre la crisi di governo. La Giunta revoca le autorizzazioni. Si sfila solo l'assessore Petraroia. Frattura pronto ad azzerare l'esecutivo. Rispunta il nome di Micaela Fanelli. Dunque il Consiglio ratifica le delibere di Palazzo Vitale. Il senatore Ruta. Ora il parco del Molise. Intanto, leggiamo sulla spalla, la Civitas, la società centrale a biomasse, prepara il conto. 8 milioni e mezzo di risarcimento. Le notizie sotto la testata. I serni aspacciava gli studenti. Giovane pusher preso con 100 donosi di hashish. Finisce in manette. A Porto Cannone, molestata dal parroco, ricorderete già da sceglie di sbattezzarsi. La Chiesa tutela il carnefice, è stato detto. A Venafro adesso evasione fiscale milionaria. Denunciati in quattro rischiano fino a sei anni di carcere. Andiamo a centropagina. La vicenda delle minacce al Governatore. Solidarità bipartisan dunque al Presidente. A Campobasso, adesso al Comune, mini deleghe. Promozioni in vista a Palazzo San Giorgio. La cronaca, sparatoria a pianura, guato nel salone, ventotenne, isernino freddato dal killer. Parla anche dell'ITR, 530 dipendenti in mobilità volontaria. Intanto Bianchi è sicura, si va avanti con Oti. A Vasto, vigili urbani in aula, passa un ordine del giorno quasi all'unanimità. Scontro nell'opposizione tra D'Alessandro e Gian Giacomo. Il calcio di serie D, Termoli, il direttore sportivo Agliano rimette il mandato. Società, ci sono due cordate. L'eccellenza Santeliana, dimissioni di mister Longo, Cordone torna in panchina. Chiudiamo il primo piano, andiamo a dare uno sguardo al quotidiano del Molise. Analoga apertura, biomasse, revocati i permessi. Annullate le autorizzazioni a Dizio e Civitas, che quantifica il danno in 8 milioni e mezzo. Intanto l'assessore Petraroia si astiene sulla delibera e apre una crisi nella maggioranza. Iorio deve dimettersi, questo è quanto ha detto l'ex governatore. In alto, a Venafro, carte false per evadere il fisco, ci pensa la finanza. Spiccate quattro denunce. A Campomarino, Porticciolo, il PM, il pubblico ministero, ha chiesto 24 rinvii a giudizio. La notizia che arriva da Pianura, agguato dal barbiere, ucciso Isernino, di 28 anni. Ancora Isernia, spaccia in villa, comunale, 18enne, arrestato. Andiamo a centropagina, ci spostiamo a Termoli. Matteo Caruso, dirigente comunale, a costo zero. Il sindaco ha nominato attivamente i dirigenti al comune. Oti di sequestrati, conti, HDC, mobilità, il sì dei lavoratori. Il futuro di officine tessili non è a rischio, si legge sul quotidiano del Molise. Attualità, minacce a frattura, politica solidale. Anche qui lo calcio di Serie D, Campobasso, a breve partiranno i lavori allo stadio. A Termoli intanto si dimette il DS Agliano, due cordate interessate. Ci spostiamo ad Agnone, si complica la vicenda legata a Stanley Ibe, per il quale ancora non arriva nulla a osta. Sulla gazzetta del Molise, questa foto, una sorta di vignetta con Petraroia, il grillo parlante. Si astiene in giunta e mette a nudo l'assenza programmatica di frattura, scrive. La gazzetta che oggi assegna l'Oscar al comitato No Biomasse, mentre il tapiro va al consigliere regionale di opposizione Angela Fusco Verrella. Andiamo sui quotidiani nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera. Un po' tutti comunque aprono con questa notizia che arriva dagli Stati Uniti. Obama è un presidente dimezzato. I repubblicani trionfano e controllano il congresso. Due anni di paralisi per la Casa Bianca. Le altre notizie, il maltempo, il torrente di Carrara che esonda ogni volta. Sono storie che purtroppo si ripetono. La politica, Renzi vede Berlusconi sulla legge elettorale, il dialogo senza l'accordo. Dalla Corriere della Sera, adesso andiamo a vedere la prima pagina e l'apertura di Repubblica. Ecco qui, Renzi a Berlusconi, decidi sulle riforme o il patto salterà. Italicum, vertice dei due leader a Palazzo Chigi. Il Cavaliere chiede tempo. Il Premier dice, ai sette giorni sulla consulta, prove d'intesa tra Movimento 5 Stelle e PD, ma è rissa al Senato. Grande foto di Obama, tramonta il suo sogno, la destra conquista l'America. Abbiamo visto, dunque, i repubblicani al congresso, le ultime elezioni di medio termine. Adesso la stampa, quotidiano torinese. Riforme, ora Berlusconi frena Renzi. Il PD ha un piano B, nuovo gruppo per una maggioranza alternativa. E queste foto dagli Stati Uniti. Ecco i nuovi repubblicani che aprono il dopo Obama. Ci sono due nuovi senatori, chiaramente repubblicani. Dalla stampa adesso al fatto quotidiano. Renzi, Tresca con Berlusconi e Verdini e copre le balle di Alfano. Questo in apertura. Nuovo vertice fra il Premier, il pregiudicato e il pluri imputato. Niente accordo sull'Italicum. Il PD salva per poco il Ministro dell'Interno, sbugiardato da un video sulle botte della Polizia. E adesso Libero, che titola così in apertura, truccate le primarie del PD e i PM non fanno nulla. Questo è quanto si chiede. Belpietro, l'intercettazione del parlamentare Di Stefano, indagato per corruzione in balazze democratici. Ex assessore di Marrazzo, dirigeva un tavolo alla Leopolda. Al partito sono dei maiali, li tiro tutti dentro. Questa è una frase virgolettata. Passiamo ad avvenire, che dedica l'apertura di oggi al maltempo. Pioggia da paura, allarme rosso in otto regioni. Roma si blinda e sonda un fiume a Carrara, città in ginocchio. Nella capitale, situazione senza precedenti, il prefetto chiude le scuole. Nella città toscana, in tre ore, le precipitazioni di un intero mese. Da avvenire adesso al mattino di Napoli, il crollo di Obama svolta in America. Poi si parla di rifiuti. Ha vinto la protesta. Ad Acerra le coballe non saranno bruciate. Più vicina, intanto, la multa da parte dell'Unione Europea. Anche qui, maltempo, alberi in curia, paura a Napoli. Tre feriti, manutenzione sotto accusa. Passiamo adesso alla gazzetta dello sport. Ieri sera l'incontro di Champions tra la Roma e il Bayern. Roma ci vuole più birra. Il Bayern vince 2-0. Guardiola, spietato, vince senza schierare Robben e Müller. Ma i giallorossi, grazie al CSKA che batte il Manchester City, restano secondi e ora possono giocarsi la qualificazione con gli umani, con quelli definiti più umani. A proposito di umani, come dire, campioni, messi sul trono del gol, raggiunge Raul. Idea Juve, leggiamo sulla spalla. Tevez dietro a Llorente e Morata. Si va verso il cambio di assetto. Allegri convinto dal modulo varato contro l'Olimpia Cosi. Bene, come sempre con la gazzetta, terminiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 14 con il Tg. Arrivederci. L'informazione torna alle 14 con il Tg. 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 Grazie.